Un buongiorno amici di Xtreme Hardware, oggi parleremo di un hard disk prodotto e commercializzato da Buffalo. Parlo del Buffalo Mini Station Xtreme, un hard disk esterno USB 3 prodotto in tre tagli differenti, cioè taglio da 500 giga, da 1 tera e da 2 tera. In questo caso parleremo del taglio da 1 tera che è commercializzato a partire da un prezzo di circa 130-135 euro. Andiamo dunque a vedere quali sono le caratteristiche di questo prodotto. La confezione riporta informazioni utili per l'acquirente. Sul frontale trova a posto un'immagine relativa al prodotto acquistato, la dimensione dell'hard disk contenuto all'interno del box e il modello stampato a caratteri cubitali. Sul retro invece troviamo caratteristiche tecniche e feature del prodotto. L'hard disk esterno si presenta in due colori, color alluminio e color nero. Il materiale di costruzione è plastica rigida e gomma antiurto. Ancorato allo chassis trova a posto un cavo USB 3 che non può essere rimosso dallo chassis stesso. Il Mini Station Xtreme è resistente agli urti e resistente agli spruzzi d'acqua occidentali, ideale per chi viaggia molto o comunque per chi vuole il massimo della sicurezza per i propri dati. Bene, abbiamo dunque visto le caratteristiche che rendono il Mini Station Xtreme un prodotto interessante. Se viaggiate molto oppure siete degli sguardati cronici potrebbe essere l'hard disk che fa il caso vostro essendo resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua occidentali. Parliamo un attimo delle performance, anche queste non sono niente male, raggiungiamo i 110-115 MB di trasferimento a secondo in fase di scrittura e anche in fase di lettura. Dunque il prezzo è di circa 130-135 euro per il taglio da un tera. Tutti i dettagli e le fotografie nel link in descrizione sul nostro portale XtremeHardware.com. Vi consiglio di iscrivervi al nostro portale, al nostro forum e seguire i numerosi contest che la produzione esegue esegue e fa durante l'anno. Quindi per adesso è tutto, da Angelo e dalla redazione XtremeHardware un saluto, alla prossima!